Ad Acicatena dunque per l'inizio della settimana prossima in Consiglio Comunale dovrebbero arrivare aliquote scadenze della Tasi. Oggi a riguardo ha deliberato la terza commissione consigliare permanente. Il tributo dovrà essere versato in quattro rate, 30 luglio, 30 settembre, 30 novembre, le prime tre scadenze e poi a conto finale entro il 16 dicembre. Situazione più delicata invece si prefigura per quel che concerne la Tari, l'altra voce della IUC che riguarda i rifiuti che nei prossimi giorni dovrebbero arrivare in commissione nel tentativo di scongiurare aumenti senza squilibrare le entrate del bilancio comunale che per la Tasi sono previste intorno agli 80 mila euro circa.